La vita è come un treno, con i suoi agi di tempo e i suoi disagi di spazio. Rimette addosso la disusata curiosità per i particolari, affina l'attenzione per quel che si ha attorno, per quel che scorre fuori del finestrino. Ogni minuto che vola via è una nuova opportunità per mutarlo del tutto. Ogni istante è un'occasione per mutare in meglio. Un lungo viaggio in cui non riuscirai mai a vedere abbastanza e camminando comprendi che non a tutto si può dare una risposta, che nulla ti viene regalato e che gli abbracci non sono dovuti. Impari come si vive il dolore e che, se ti conosci abbastanza, le parole assumono un'altra forma e non ti possono più ferire, perché nulla di male ti può accadere quando sei sicuro di voler solo il tuo bene. Tutto ciò che vive in questo mondo muore. È per questo che bisogna lottare e vivere con gioia. Vivere ogni attimo intensamente, senza avere timore della fine. Rinnegare questo è negare la vita stessa. Bisogna accettarla, non avere paura. Tu sei più forte di quanto credi. Siamo arrivati alla fine del video. Ti invito nuovamente a iscriverti al mio canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e aggiornata su tutto quello che pubblicherò. Se sei curioso, curiosa e non sai ancora cos'è Business in Box Italia, male? Ecco per te un breve riassunto. Business in Box Italia è una scuola online dove grazie al programma Academy imparerai tutto quello che serve e molto altro per creare, lanciare e rendere profittevole qualsiasi business online. Con il programma Mentor potrai far parte di una cerchia ristretta di persone che hanno migliorato la loro vita grazie ai consigli di 4 mentori straordinari. E infine il programma Challenge dove per 28 giorni ti verranno spiegate le basi per poter lavorare online così da darti la possibilità di capire se il mondo online può far per te. Fai azione e ci vediamo dall'altra parte. Alla prossima!